Sono Leon e oggi sono felice di parlare al matrimonio di mamma e Lori per far sapere a tutti voi quanto questo giorno sia importante per me. Mamma, sei sempre stata una guida e una fonte di ispirazione per me. Vedere quanto sei felice con Lori mi riempie di gioia. Lori, grazie per aver coltato tanto. Tanto amore e risate. Tanto amore, insieme a te ti formiamo una bellissima famiglia e tu ci fai sentire ancora più amici. Questi anni passati insieme a voi sono stati i migliori per la mia vita. Sieni di amore e felicità. Mi ricordo che da piccolo, vabbè, quando ero più piccolo, mi svegliavo prima di noi e andavo a preparare la colazione con l'asso e biscotti. Per mamma le gocce. Per l'olio qualunque biscotto andava bene. E per me i pan di scello. Ed ero tanto felice perché l'olio non andava al lavoro di mattina e per te ho mospettil gates seu amore e non andava alle nostre piccolo cucina. Mamma. Grazie.